Wyckoff, Wyckoff, Wyckoff! Abbiamo trovato la nuova teoria miracolosa presa dal passato! Wyckoff di qua, Wyckoff di là, cosa accadrà, cosa accadrà? Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video andiamo ad analizzare la teoria di Wyckoff ragazzi perché sta spopolando sui mercati delle criptovalute soprattutto su Bitcoin e andiamo a capire ma che è questa teoria cosa dice cosa non dice vi do un link dove ve ne andate a leggere perché è sempre bello fare queste infarinature ma il nocciolo del video non è andare a spiegarvi le ninette di Wyckoff ma andare a cercare di capire ma veramente ha senso una teoria del genere sui mercati delle criptovalute una teoria sviluppata cento anni fa è ancora valida cosa possiamo conservare la teoria di Wyckoff qual è il messaggio della teoria di Wyckoff per le moderne generazioni senza andare come sempre a fare i creduloni che vanno a dal mago a cercare la soluzione e poi andiamo anche a vedere il mercato cosa ci sta dicendo perché veramente Bitcoin sembra aver disegnato quella che è la teoria di Wyckoff ragazzi ok quindi sono contentissimo di fare questo video perché me l'avete chiesto in 10.000 ragazzi allora in academy parlate di Wyckoff e su email mi avete scritto di Wyckoff e ho una decina di commenti nei miei video e avete detto ho capito che sta girando questa teoria quindi ho detto vabbè andiamola a spiegare poi è molto bello anche cercare di ragionare per capire cosa significano queste teorie ragazzi ok prima di fare una cosa del genere andiamo a iscriverci al canale se ancora non l'avete fatto se non mi lasciate un mi piace butto il mio Bitcoin non si salirà mai più per i prossimi 12 anni quindi vi conviene cliccate per favore ragazzi l'ho detta sta fesseria ma intanto vi lascio il link della Binance Academy dove potete tranquillamente trovare tutto quello che è il suo metodo ragazzi vi lascio il link in descrizione perché intanto è fatto abbastanza bene in 10 minuti vi studiate tutto quelle che sono questa teoria di insomma qualche annetto fa circa un centinaio di anni fa chi era Wyckoff è sicuramente uno dei pionieri dell'analisi tecnica è un personaggio diciamo fortemente legato anche quelle che erano le teorie del tempo come ad esempio la teoria di DAO ragazzi allora ci sono delle logiche di Wyckoff che bisogna imparare come se fosse l'alfabeto ragazzi ok ma sono le stesse logiche anche della teoria di DAO ragazzi quindi non soltanto di Wyckoff e ci sono dei concetti che sono sempre validi sui mercati non sono mai cambiati ragazzi ok questo è il cuore di questa teoria che possiamo tenere a mente ma sono cose ragazzi risapute e risapute cioè non è una questione legata alla teoria di Wyckoff comunque andando ad analizzare allora le regole fondamentali Wyckoff ovviamente da buon uomo del 1930 utilizza delle tipologie di schemi sintetizzazioni dei paroloni perché in quegli anni ragazzi era abbastanza utile fare questo tipo di concetti e introduce il famoso concetto dell'uomo composito uomo composito altro non è che il mercato in mercato ok non lo chiamiamo il mercato in pratica l'uomo composito ragazzi rappresenta tutti gli operatori più importanti del mercato quindi niente di complesso ragazzi sono cose che noi utilizziamo costantemente ormai sono concetti assolutamente scontati che vengono ovviamente ripresi su una terminologia che è obsoleta perché chiaramente si parla di un centinaio di anni fa quindi l'idea del cosiddetto uomo composito è semplicemente l'insieme di soggetti come Elon Musk come le wealth istituzionali che vogliono comprare bitcoin i miners da una parte gli exchange dall'altra parte il CZ con BNB insomma tutti i personaggi che ruotano diciamo intorno ad un mercato questi personaggi influenzano in maniera più importante l'andamento del prezzo ma va ok ancora qui insomma un'altra diciamo affermazione abbastanza abbastanza diciamo scontata ragazzi ok quindi senza andare a diciamo ulteriormente approfondire questa cosa ve la lascio comunque spiegata benissimo tutte le fasi della logica di Wyckoff quello che secondo me è importantissimo riprendere da questa struttura è la fase cosiddetta fase di accumulo struttura della distribuzione e poi i due trend da ambo le parti questa è per esempio una figura di conclusione di un trend secondo quella che la teoria di Wyckoff è in questo momento ovviamente l'avete già vista questa immagine sicuro allora questa è la fotocopia di dell'attuale situazione di bitcoin ragazzi ok proprio fotocopia allora questa è una grandissima casualità è infatti vi faccio vedere come l'attuale situazione di bitcoin praticamente identica ragazzi come fase distributiva a quella della teoria di di Wyckoff poi Wyckoff ragazzi utilizza una serie di terminologie per indicare le fasi di accelerazione e decelerazione e i fake breakout relativamente al mercato utilizzare questo tipo di logica andandola ad impiantare su un mercato moderno non è giusto ragazzi perché semplicemente questa favoletta disegnata rappresenta un mercato tipo teorico ragazzi ok però poi e nell'arco degli ultimi anni chiaramente soprattutto con la finanza moderna ragazzi questo tipo di atteggiamenti gli strumenti finanziari li hanno veramente molto tirato e soprattutto non così precisi quindi andandere a scrivere tutte queste diciture ve lo sconsiglio perché semplicemente vi confondete è vero imparate una teoria questo è sempre una cosa assolutamente stra bella da fare quindi fatela proprio fatela ok perché è utilissimo però poi ricordatevi che è una cosa che effettivamente diciamo potrebbe essere completamente inventata cioè nell'attuale situazione cioè questo fatto che bitcoin si è mosso come la teoria di guai cof ragazzi potrebbe essere semplicemente una bellissima casualità e vi faccio anche vedere il perché proprio utilizzando sempre dati ovviamente ok allora questo questa struttura ragazzi è la famosa teoria di guai cof dove ci dice che in pratica nella parte alta del mercato qui è avvenuta una distribuzione dei prezzi di bitcoin prima dell'avvento del famoso break qui che poi ha dato il via a il trend di natura ribassista cioè in pratica tutta questa fase vedete avviene una sorta di distribuzione l'area di resistenza regge poi qui c'è l'utad che sarebbe il fake breakout dell'area di resistenza dopodiché c'è un test nuovo dell'area di supporto un tentativo di rialzo questo diciamo può farlo non farlo chiaramente e poi il break con l'SOW che rappresenta il break dell'area di supporto della fase distributiva poi il pull up in questo caso dal basso verso l'alto è l'inizio di un nuovo trend ribassista nella teoria di guai cof e questo secondo me è importantissimo andarlo a ricordare così magari da conservarvi questa informazione e è descritta in maniera estremamente approfondita lineare puntigliosa tutta quella che è la fase di distribuzione ma anche di accumulazione perché secondo guai cof anche la struttura di accumulazione di un mercato avviene nello stesso identico modo basta in pratica andare a rivoltare questo grafico ragazzi se lo girate dall'altra parte anzi vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua ok ragazzi allora questa è la fase di accumulazione praticamente è la stessa che abbiamo appena visto al contrario in pratica sono vedete simmetriche una da una parte una dall'altra allora ragazzi queste fasi distribuzione e accumulazione nei mercati esistono da sempre ed è normale che sia così perché bitcoin essendo uno strumento più importante del settore criptovalute magari la fase finale la fa a livello di distribuzione questa cosa però è la prima volta che avviene su bitcoin in questo modo va bene quindi non è una consuetudine di bitcoin nel fatto che crei queste fasi distributive anzi l'ultima fase distributiva di bitcoin diciamo è stata forse un po eccessiva eccessivamente semplice da vedere e questo la dice lunga anche su tante cose sicuramente il mercato sta maturando però è molto più facile che questa fase distributiva di bitcoin sia dovuta a una semplice casualità di eventi che si sono correlati uno dentro l'altro piuttosto che alla seguire una teoria anche perché nessuna delle altre criptovalute importanti ha fatto questa cosa e in primis per esempio e th se andiamo a vederla anzi dovrei diciamo avere qui il grafico di eti h vi faccio vedere non c'entra assolutamente niente vedete la differenza con la fase distributiva di guai cof con eti h ragazzi non c'è proprio nulla ok eti h ha fatto il classico pump e poi il dump diritto e poi sta in questo momento diciamo limitando i danni allora se da qui inizia una fase distributiva dovremmo essere sulla r di guai cof e quindi ancora bisogna stare un mesetto due mesi su eti h a fare la fase distributiva prima del crash e allora cosa c'entra in questo caso il fatto che btc abbia già iniziato anzi addirittura praticamente sia nella fase di pullback di questo livello prima di chiudere secondo questa fase diciamo la fase di ribasso che porterebbe addirittura un target sotto i 20 mila i principi di accumulazione di distribuzione sui mercati ci sono e sono assolutamente validi ed è quello che bisogna prendere da questa teoria e portarcelo a casa il fatto che il mercato abbia disegnato una fase di distribuzione veramente sembrava disegnata ragazzi se li mettete sopra sono uguali è una casualità oppure magari è stato voluto ragazzi ma muovere bitcoin è un po pesantuccio quindi andare a fare questi giochini la vedo senza senso insomma l'ottanta per cento sarà una casualità anche perché nella storia di btc non è stata ripetuta questo tipo di atteggiamento vi faccio anche vedere per esempio lo scoppio della bolla del 2000 eccola qui del 2017 vedete che la struttura è completamente diversa perché qui fa un semplice balzo e poi brecca la struttura di distribuzione questa parte qui quindi da questa situazione stessa cosa ragazzi anche se andate avanti per esempio questa è una struttura distributiva guardate come è schiacciata e poi viene fatto questa invece una struttura di accumulazione la più importante perché fa i minimi del 2018 e non ha nessuna somiglianza a questa qui ragazzi nessuna perché guardate come è costruita è completamente un'altra cosa cioè è semplicemente una barra ma mancano tutte le caratteristiche che qui sono descritte tra cui anche e soprattutto la famosa molla lo spring cioè quello che brecca prova fa un fake break e poi rimbalza vedete non c'è assolutamente c'è proprio una distanza anche tra questo minimo anzi semmai testa un break fa fake qui prima di farlo vero allora totalmente un'altra cosa posso andare avanti a mostrarvi anche altre decine di grafici ma troverete tutti la stessa cosa anche questo ragazzi vedete la classica struttura che era già avvenuta nel 2017 nel 2019 anche qui completamente diversa da questa fase distributiva che vede il massimo nella seconda parte e addirittura insomma ragazzi poi qui ovviamente fa un mega rimbalzo qui guardate qua addirittura un altro trend non c'entra assolutamente niente con questa questa fase di distribuzione come vedete i mercati sono vari assolutamente impossibile imbrigliare un mercato all'interno di questo tipo di teorie però 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 ok non è neanche giusto andare a dire che queste teorie sono delle barzellette perché non è vero questo ragazzi sono semplicemente delle teorie che sono state fatte quando i mercati erano fatti con la carta e la penna quando i prezzi si facevano a urla nelle sale ragazzi ok non con il computer non con i bot quindi andare a immaginare che una teoria così delineata sia attuale e non ha molto senso ma è attuale la l'idea per esempio dei market dei market maker cioè dei soggetti istituzionali o come li chiama guai colpo non mi ricordo uomo composito insomma che va a gestire o a regolare questo tipo di mercati questi sono vere queste cose sono sempre e saranno sempre ragazzi presenti va bene però tutte quelle che sono le interrelazioni anche dei market maker sono completamente diverse per esempio i settori cripto i market makers sono tatti ragazzi perché noi non abbiamo una regolamentazione non c'è la federa riserva nel settore cripto che va a bloccare eventuali fasi di ribasto magari dei mercati perché stanno scendendo troppo e chiude le borse da noi non esistono queste cose nei mercati cripto tutto quello che è questo mondo è completamente più veloce tutto più veloce quello che esiste dalla teoria di wyckoff sono le fasi di accumulazione e distribuzione ma vengono create ed eseguite dal mercato un po' come gli gira quindi non potete andare a seguire uno schemino con 12 punti ma se ragioniamo a noi non cambia nulla ragazzi teoria di wyckoff si vera falsa bla 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 non cambia nulla quello che è intelligente andare a ragionare e dire esiste la fase di distribuzione si esiste la fase di accumulazione sì ma la fase di distribuzione deve finire forzatamente con questa struttura di lps y e poi nuovo crash no questa è la differenza non deve a forza finire in quel modo perché se i mercati sono più veloci arrivano subito dove devono andare un problema di processo delle informazioni che avviene in maniera molto più veloce sui mercati moderni mentre nei mercati vecchi era lento ragazzi quindi si facevano tutte queste fasi perché le informazioni arrivavano lentamente adesso qui basta un nulla e il fatto che il mercato abbia invertito un trend lo sa tutto il pianeta quindi arriva e fa il dump ragazzi ci arriva subito al prezzo dove deve arrivare quindi magari non fa queste cose altre volte magari per diversi motivi lo potrà andare a disegnare questo è il concetto da tenere a mente di queste teorie quando andate a rappresentare il mercato su teorie soprattutto un po anzianotte ricordatevi di aggiornarle alla velocità del mondo attuale ok va benissimo la fase di distribuzione in questo caso ha praticamente fatto un disegno di coincidenza che non l'ha mai fatta questa cosa bitcoin va bene e soprattutto non l'ha fatta eth nessuna delle cripto bnb nessuno ha fatto questa cosa quindi è semplicemente una casualità che in questo momento sia andata a verificare per una serie di motivi su bitcoin ragazzi poi in questo caso potrebbe essere chiusa questa fase proprio secondo questo teoria ma potrebbe anche ragazzi perché perché il principio riflessivo sui mercati cripto in sostanza è molto molto diciamo importante perché le cripto sono molto emotive rispetto agli altri mercati quindi può essere anche che vada a fare questa gambetta ribassista a chiudere con il famoso abc insomma lo vedremo nei prossimi mesi ragazzi però cosa c'è di buono in questa teoria cosa vi dovete portare a casa il fatto che i mercati facciano delle fasi di distribuzione di accumulazione all'inizio e alla fine di ogni trend e questo ci dice anche un altro discorso relativamente a questa fase di bitcoin questa fase che è stata sicuramente una fase di distribuzione potrebbe essere anche terminata qui è questo il discorso potrebbe essere finita dopo di che il mercato costruirà magari una breve fase di accumulazione che magari potrà durare da qui alle prossime a diciamo ai prossimi mesi farà una cosa del genere poi incomincia un nuovo trend perché i trend di mercato sono sempre divisi da fasi di accumulazione e di distribuzione questo ce lo portiamo a casa dalla teoria di guai o di dow perché insomma questo diciamo viene dalla teoria di dow va bene e questo lo dovete imparare a memoria perché vi ricorda sempre queste cose poi andare invece a costruire le linee tutte precise ragazzi lasciate perdere leggetevi quelli che sono il metodo su binance academy vi lascio il link è scritto benissimo e poi ricordatevi che nessuno ha la palla di vetro nessuno prevede il futuro che se volete stare sui mercati vincere con il trading vincere con gli investimenti dovete stare dieci passi avanti al mercato ragazzi dovete essere resilienti dovete proteggervi da quello che accade nel mentre perché se voi dite va da qui a qui mi sta benissimo ma poi dovete dire se non ci va cosa faccio questo è il modo giusto di approcciarsi ai mercati non andare a cercare teorie magiche che ci possono dare il livello finale di un prezzo oppure predire il futuro ok c'è la bacchetta di harry potere dall'altra parte erano due anni che non la prendevo l'ho fatto un video con la bacchetta ragazzi domani porto la palla di vetro vabbè ciao a tutti ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se anche voi avete una palla di vetro che prevede il futuro speditemela perché la voglio pure io la palla 8 quella che fatta tata mamma non mamma ciao ragazzi